Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Denis Zaccaria. Come sempre vi chiedo di presentare voi la vostra testata e di fare una domanda alla volta. Iniziamo con JTV. Ciao Denis, benvenuto. Enrico Zambrono di Ventus TV. Ti chiedo che momento è questo qua per quanto riguarda la tua carriera e cosa ti ha spinto a scegliere la Juve come nuova tappa? Grazie. Buongiorno a tutti intanto e grazie di avermi accolto. Ho scelto la Juventus perché comunque è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare e per me è davvero un sogno essere qui. Quindi ho deciso che sarebbe stato il modo giusto per continuare la mia carriera. Ciao Denis, Romeo Agressi, gol.com. Ti faccio una domanda tattica perché sei passato dal giocare davanti alla difesa con Rose ultimamente al 3-4-2-1 più come centrocampista diciamo mezz'ala di inserimento. Le statistiche dicono che stai trovando maggiore continuità anche in fase di tiro, di assist. Ti chiedo se pensi che il tuo prossimo step della carriera sia a segnare con maggiore continuità. Grazie. Sicuramente è sempre stato un obiettivo di aumentare sensibilmente il numero dei miei gol e visto che sono alla Juventus potrebbe essere una buona occasione questa per diventare molto più efficace in questo senso sicuramente. Ciao Giovanni Albanese Sport Italia. Ti chiedo che detti sei fatto del calcio italiano e in particolare della Juve in queste ore in cui l'hai vissuta dall'interno. Grazie. Un'idea molto molto buona, un'impressione eccezionale. È una squadra molto forte, con grandi qualità e se devo fare un paragone con la Germania dove ho giocato finora, secondo me è un grande passo in avanti perché il club è di grande qualità e quindi sicuramente potrò fare dei passi avanti anch'io. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta della Sport. Quarto, io volevo chiederti se dovessi descriverti a un tifoso della Juve che non ti conosce come caratteristiche tecniche, che cosa diresti? Se dovessi descrivermi, io amo giocare in avanti, sono aggressivo, amo molto recuperare i palloni ma anche difendere e aiutare nel recupero del pallone, quindi posso descrivermi come un giocatore abbastanza completo. Buon pomeriggio Denis, Luca Cavallero, TNV Radio. Volevo chiederti se prima di fare questa scelta ti sei confrontato con Stefan Ligsteiner, tuo ex compagno di nazionale e se sì, se ti ha spiegato cos'è la Juve. Grazie. No, diciamo che prima di fare questa scelta non ho avuto effettivamente il tempo di parlare con Stefan. In effetti è successo tutto molto in fretta e purtroppo appunto non c'è stata occasione ma sono sicuro che avremo occasione di farlo in futuro. Ciao Denis, Giorgio Musso di Calciomercato.it. Volevo chiederti se ti aspettavi di lasciare subito il Borussia e se altre squadre ti hanno cercato sul mercato. Grazie. Allora, diciamo, mi aspettavo di lasciare il Borussia ma diciamo di sì ma non immediatamente perché diciamo che era metà stagione, però diciamo che avere la Juventus che ti cerca non è una cosa che succede tutti i giorni quindi ho colto l'occasione perché era appunto, come ho detto prima, comunque un sogno per la mia carriera e quindi spero di poter dare il mio contributo alla squadra. Buongiorno Denis, benvenuto con la Gallo Mediapason. Volevo chiederti due cose. Qual è stato il tuo primo impatto con il mister e con i compagni e se hai una posizione preferita in cui giocare in campo? Diciamo che sia con l'allenatore che con i miei compagni è stato tutto molto fluido ci siamo trovati subito abbastanza bene perché so che il livello che c'è qui è molto alto ma l'atmosfera è sempre buona quindi sono sicuro che per quanto riguarda la posizione io ho una posizione naturale in centrocampo ma non ho particolari belle età. Volevo chiederti, è molto semplice, stai bene fisicamente, sei pronto? Puoi già scendere in campo domenica se l'allenatore te lo chiede? Onestamente sì mi sento bene, mi sono già allenato due volte quindi comincio a prendere le misure anche della squadra quindi se l'allenatore ha bisogno di me io sono pronto a scendere in campo anche il prossimo turno. Ciao Gianluca De Nino alla Stampa, volevo chiederti a proposito dell'allenatore se hai parlato con Allegri, se vi siete già confrontati anche perché un giocatore come te in questa rosa non c'è quindi volevo capire cosa ti ha chiesto e che cosa puoi fare per questa Juve. Grazie. Sì, diciamo che abbiamo avuto occasione di parlarci già, diciamo che mi ha detto più o meno quello che si aspetta da me se devo iniziare un po' più a chiudere o ad allungarmi ma per il momento non abbiamo ancora discusso i dettagli ovviamente. Buon pomeriggio Zaccaria, Francesco Fontana Dazon, ti chiedo se c'è un modello al quale nella tua carriera in questi anni ti sei ispirato. Grazie. Allora se devo pensare a qualcuno io direi Patrick Geras perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Comunque io sono Zaccaria per cui cerco anche io il mio stile, non necessariamente cerco di aderire a un modello diverso. Buongiorno, buongiorno Denis, spero che tu stia bene. Allora sei il terzo svizzero ad arrivare alla Juventus, tu sei particolarmente orgoglioso, ti dice qualcosa della storia? Sì, moltissimo orgoglioso devo dire di essere qua come ho detto più volte, era comunque un sogno per me. La squadra preferita di mio padre era la Juventus e quindi conosco molto di questo club per cui cercherò sicuramente di mettere tutto me stesso e aiutare la squadra a migliorarsi ancora se possibile. Ciao Denis, cosa significa per te arrivare alla Juventus? Secondo te è l'apice della tua carriera oppure soltanto una delle varie tappe? Ovviamente io non mi fermo qui, ci conosciamo da tempo, sono un combattente e quindi voglio sempre migliorare. Sicuramente è un passo molto importante nella mia carriera, come ho detto prima, però io ho sempre voglia di diventare sempre più forte e di migliorarmi. Quindi sono sicuro che qui avrò l'occasione di farlo nel migliore dei modi, ma se devo guardare il futuro sicuramente è soltanto un passo, non il termine sicuramente. Buongiorno Denis, Alberto Mauro, il messaggero di Juventus News 24. Chapuisà ha detto che Interi vede qualcosa di Pogba, chiaramente in questo momento fare paragoni con Pogba non si può. Ti volevo chiedere però se è un giocatore a cui ti ispiri e ti piacerebbe ripercorrere il suo percorso qui alla Juventus. Grazie. Pogba lo conosciamo tutti, sappiamo tutti quello che ha fatto e quello che ha lasciato alla Juventus, è un giocatore fantastico. Quindi sicuramente spero di avere lo stesso successo che ha avuto lui, come ho detto prima. Io ho la mia identità, quindi sicuramente i modelli sono buoni, ma spero di trovare il mio cammino e di lasciare il mio segno. Bene, chiudiamo qui la conferenza di presentazione di Denis Zaccaria e chiamo sul on stage Federico Cherubini e Maurizio Rivabene per la classica foto di Rito. Grazie. 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 Grazie.